ciao ragazzi e benvenuti sono dj menetslory oggi vi faccio vedere un video un po breve che durerà diciamo che dura un po perché faccio due o tre battaglie su clash royale questo è clash royale adesso sono in un clan questo mio clan si chiama italian ori 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 or in cui posso aiutare robe varie o invece una casa una casa di a sargento poi queste sono tutte le mie truppe e il cavaliere il mini pack la valchiria il marciere poi la bomba di fuoco una bomba rovente poi il gigante il goblin e il principe poi il bombardiere il moschettiere e goblin con la benda e le e le frecce sono arrivati tre tre messaggi adesso combattiamo mettiamo un barbol qua un gigante lo mettiamo anche noi e aspetta poi mettiamo un altro il cavaliere il principe dobbiamo fare fuori il principe così lo mettiamo noi ah sta vincendo lui cavaliere e principe qua metto i goblin a difendere un pochino e poi questa la perdo l'ho persa fa niente l'ho perso meno 8 trofei clash royale l'ho scaricato da aptoide voi scaricate aptoide scrivete su internet aptoide e lo scaricate poi qua scrivete è già venuto pure clash royale e il primo dovete il primo dovete installare e poi ve lo installa ed è garantita una buona applicazione e verrà più tardi su google play su google play adesso faccio un altro attacco vi faccio vedere anche il mio villo di clash of clans questo è il mio villo in clash of clans ve lo faccio vedere un po più piccolo questo qua questo qui allora ho fatto da poco la tre vela del nero poi ho sempre l'oro l'isir sono nelle clan imperium e non sono tanto maxato ho il munici per l'otto devo faccio un attacco anche qua cerchiamo uno che ha il muni fuori come lo trovo sempre quasi li trovo sempre io i muni fuori però qua non c'è il muni fuori attacco solo munici fuori perché sennò poi mi ammazzano mi fanno fuori poi vinto qua termino la battaglia o sennò uso tutte le mie truppe vabbè la termino ho fatto il 2% termino battaglia non mi ha dato niente solo 5 coppie solo 5 coppie e lui leonardo 98 il capo mi ha mandato anche quel messaggio ciao ragazzi questi sono i miei soldi io esco andiamo su clash real andiamo qua beh lì si allora vi spiego un po' a livello 3 si sblocca i clan in cui si può entrare qua invece tv royal che puoi vedere gli altri che combattono qua invece vedi tutte le tue carte che hai e se hai fortuna puoi beccare il principe qua invece poi con i soldi che hai all'inizio ti danno 100 gemme e lo sprecate tutte poi ne hanno avuto altre di 100 e lo sprecate poi mandare sui goblin e altre cose io vorrei comprarmi il baby drago poi qua invece ci sono le chest e qua per comprare le gemme e l'oro adesso faccio un altro attacco ok questo è il livello 2 se riesco a battere sono fortunata perché io sono di livello 3 mi metto gli arcieri così mi ammazzano il gigante non mi fanno niente anche il mini pack uso il cavaliere e i goblin che vanno e là di qua invece ci sono gli arcieri adesso ho messo giù tutti gli scheletri io attacco là un mio fortunato e mi da una gran parte e attacco con il principe questo questo clash royale è tutto in inglese è tutto in inglese praticamente questo clash royale io attacco di qua e vediamo gli arcieri gli arcieri sono morti uso il principe mi ha attaccato anche lui dovrei attaccarli davanti però me lo ammazzano uso i goblin che mi fanno un po' da da scudo protettivo e aspetto il principe o anche la valchieria però non ci voglio usarla forse mi batte no se boh mi ha battuto ho fatto due attacchi e li ho persi però mi ha tolto meno 8 trofei vi lascio a un prossimo video a un prossimo video ciao ragazzi